L'Abruzzo in questo periodo offre scenari incantevoli nei boschi e nelle campagne. Le foglie assumono colori dalle tante sfumature. A Crecchio, il Movimento Turismo del Vino e la rivista d'Abruzzo hanno organizzato una giornata dedicata al foliage con lo scopo di promuovere l'enoturismo anche in autunno. Ne hanno parlato importanti relatori in un convegno al quale ha fatto seguito una passeggiata ricca di fascino ed emozioni. Nicola Dauria. È una giornata dedicata alla scoperta dei colori e dei sapori di questo periodo particolare che è l'autunno. Quindi foliage d'Abruzzo dedicato appunto a questa giornata. L'idea nostra è quella di cercare di far sviluppare un turismo anche fatto non solo di un periodo estivo come siamo abituati noi in questo territorio ma fatto anche in un periodo diverso, quindi appunto l'autunno. Ci dà dei colori eccezionali soprattutto i vigneti che ci donano dei colori particolarissimi, i nostri faggeti, i nostri boschi. E quindi dopo un momento convegnistico, quindi di formazione culturale in cui abbiamo ascoltato dei docenti bravissimi adesso stiamo facendo con mano, stiamo toccando il territorio e quindi ci stiamo facendo questa bellissima passeggiata. Gheitano Basti, l'editore che insieme al Movimento Turismo del Vino ha organizzato questa bellissima giornata che ha previsto un momento di convegno ed una passeggiata. Le fogliaggi si fanno soprattutto in Nord America ma nei grossi boschi, ma anche in Abruzzo abbiamo le faggete, abbiamo i castagneti, i querceti e soprattutto abbiamo le vigne che in questo periodo si tingono di colori bellissimi che vanno dal giallo al rossa al rosa eccetera. Professore Ernesto Di Renzo dell'Università di Tor Vergata, un interessante convegno prima di questa bellissima passeggiata. Abruzzo, enogastronomia, enoturismo, che cosa può offrire questa regione? L'Abruzzo ha veramente tanto, molto da offrire, molto più di quanto normalmente si creda o normalmente si sappia. Questo è anche una conseguenza della grande varietà morfologica, del territorio, della diversità climatica che poi incide anche sulla biodiversità. Ovviamente se parliamo di biodiversità vegetale e animale stiamo parlando di ingredienti, stiamo parlando di materie prime, di tutto ciò che poi può essere utilizzato ed è stato utilizzato nella trasformazione alimentare e soprattutto nella produzione gastronomica. L'Abruzzo ha tanto, forse non ha sufficientemente gli strumenti per poter rendere tutto questo una risorsa o meglio, ha dal punto di vista dell'enogastronomia un grande stock di capitale però dovrebbe avere elementi in più, soprattutto elementi operativi per trasformare in prodotto turistico. Ecco, e lì l'operazione non è facile, è complessa, richiede soprattutto una complementarità di apporti, complementarità di scampi, complementarità di conoscenze, soprattutto anche creatività di iniziativa come quella che stiamo vivendo qui oggi.